Qual è il tuo calciatore preferito? Lautaro Non puoi parlare finché non ti nomino, un calciatore più forte è Lautaro Giroud Leao Lukaku Dybala Harry Kane Neymar Neymar no Suarez Benzema Lewandowski Messi Ronaldo Il principe Milito Quello sì Milito è più forte E certo, abbiamo vinto il triplete E certo